interrompiamo le trasmissioni giovannetti e fontana esterno stazione giorno è mattina è quasi mezzogiorno l'asfalto scotta e cuoce interno macchina alessio 35 anni è seduto in macchina e fuma una sigaretta appoggiando il braccio fuori dal finestrino la radio passa una canzone pop italiana l'uomo ha un capello ben curato una camicia con le maniche tirate su e dei pantaloni di un completo spegne la sigaretta e la getta fuori dal finestrino radio interrompiamo la trasmissione per una notizia straordinaria infastidito alessio spegne la radio in quel momento alla macchina si avvicina bruno 40 anni ha una sacca di un centro sportivo poggiata sulle spalle indossa più vestiti di quelli che il caldo dovrebbe consentire cammina a passo svelto arriva al finestrino alessio bruno bruno piacere bruno ha la mano leggermente sudata tanto che alessio si asciuga la sua sul vestito bruno scusa alessio dai sali bruno fa il giro e sali in macchina alessio vuoi mettere la borsa dietro bruno no grazie alessio come preferisci comunque io mi chiamo alessio alessio guida col finestrino abbassato ti spiace se fumo bruno fa segno di no con la testa alessio prende il suo zippo d'oro e si accende la sigaretta alessio fa caldo è vero ma se c'è una cosa che amo è fumare mentre guido guarda fuori dal finestrino che belli i campi a bruno da qui a milano ne vedremo tanti bruno annuisce arriva un messaggio ad alessio alessio e se ci va ha un'altra richiesta di passaggio che facciamo alessio spegne la sigaretta la getta fuori è sulla strada non ha una bella faccia ma sembra simpatico esterno piazzola di sosta alessio accosta la macchina cesare 43 anni ha un passo svelto la raggiunge è un uomo grasso estempiato ha un vistoso pizzetto e indossa una larga camicia colorata un paio di pantaloni corti e degli occhiali da sole cesare buongiorno alessio piacere cesare io sono alessio i due si stringono la mano cesare entra in macchina alessio riparte alessio sei fortunato un attimo dopo e avresti dovuto prendere il treno cesare hai ragione sia benedetta questa app bruno posso mettere la valigia dietro alessio certo aspetta mia cesare passa qui bruno bruno passa la valigia cesare che la poggia accanto a lui alessio guida in silenzio alessio alza un po la radio bruno alza il volume della radio radio è di stamane la notizia del bruno abbassa di scatto bruno che noia la radio però cesare infatti i tre rimangono in silenzio